Lo step by step sarebbe il percorso imprenditorialmente più naturale, lo dico perché sono uno molto metodico, quindi mi piace costruire come abbiamo fatto fino ad oggi, siamo arrivati a metà campionato, sono contento fino a un certo punto perché poi noi siamo dei perfezionisti, quindi mi piacerebbe avere a terra già tutte le armi necessarie per avere un vestito perfetto. E sono conscio ovviamente di un periodo così breve, è impossibile averlo perfetto, ma ogni giorno ci impegniamo per cercare di averlo il più possibile, come dire, per me la percezione, perché in questo caso parliamo di un brand, nel caso di un brand la percezione è il valore più importante, perché la percezione costruisce tutto ciò che è il valore che uno è riuscito a costruire, quindi questo è quello che cerchiamo di costruire in questo momento, una percezione altissima. Quindi per me lo step by step sarebbe la condizione migliore. Se così non dovesse essere, siamo sicuramente strutturati come società e come azienda a fare dei salti tripli, mortali, perché siamo abituati col cinema in primis, che comunque è un mestiere difficilissimo, dove si prendono 1600 decisioni al secondo e con dei rischi imprenditoriali grossi, anche dal punto di vista calcistico e organizzativo abbiamo le spalle grosse, perché insomma veniamo da 15 anni di esperienza e anche da categorie ancora più grosse e importanti, quindi se questo dovesse essere siamo pronti. Siamo in linea, siamo sopra quelli che sono i programmi, nel senso che come ho detto essere a nove punti dalla seconda, già al primo giro è un traguardo sopra le aspettative. Questo è un gruppo come tutti i gruppi comunque di calcio, si stanno impegnando dal primo all'ultimo, quindi non voglio fare nomi per preferire un giocatore rispetto a un altro, farei un torto a uno degli altri under. Gli under devono essere tutelati tutti, perché comunque sono ragazzi che si stanno spendendo, hanno la pressione nelle gambe di sentirsi osservati speciali, questo io l'ho detto al discorso natalizio, quando siamo stati insieme alla squadra, che mi aspetto dalla squadra di giocare dalla prima all'ultima partita che rimane di campionato, come se fosse una finale di Champions League, perché il Bari è un osservato speciale, un po' perché è una piazza straimportante che ritorna in auge, da una parte perché la nostra famiglia è guardata a vista, perché comunque il Napoli ha avuto un percorso di successo, quindi questa è una nuova avventura, abbiamo un'attenzione da parte dei media importante, che questo mi fa solo che piacere, sempre per entrambe i valori, quindi una parte è il Bari, una parte è la nostra famiglia, e quindi questi giocatori vengono guardati continuamente, anche perché il Bari sta creando dei record molto importanti, soprattutto a livello nazionale, anche al cospetto della Juve, e quindi è ovvio che ogni partita si guardano e si studiano ogni singolo giocatore del Bari, quindi è importante che questi giocatori diano il massimo, quindi non voglio preferire nessuno, tutti devono dare il massimo, tutti perfetti. Non so che rispondere, sinceramente. Queste sono domande che dovete fare a Matteo Scali. Offriamo 40 milioni anche del Piovanello. No, non mi sorprende, la natura umana, nel senso che alla fine il Bari ad oggi è 3-0, 3-0, 3-0, e poi è imbattuta, quindi è ovvio che al primo singhiozzo c'è subito il mugugno, o almeno si può parlare di qualcosa di diverso, il Bari è in verità, penso che faccia parte della natura umana, anche a livelli importanti di chi vince sempre, e poi al primo inceppo ha tragedia, fa parte della speculazione umana, che poi appunto si trasferisce in voi giornali, nelle radio, che è tutto audience, quindi è perfetto. Fa parte del calcio. Fa parte del calcio. Se no di che parliamo? Penso che non esiste una presidenza che non vorrebbe arrivare imbattuta a fine campionato. Questo in qualsiasi sport, categoria, mestiere, è ovvio che sarebbe una conferma incredibile di un gruppo sportivo che è stato costruito veramente con grande professionalità. Io diciamo che mi piace parlare di ogni singola partita, perché ogni singola partita è veramente una sfida per il Bari, ma come lo è per qualsiasi altra squadra, perché ogni partita deve essere eletta, preparata, strategicamente, insomma ci sono veramente strategie che sono tante da mettere in pista, dove ogni domenica davvero c'è una settimana di lavoro intensa, dove appunto poi vengono fatte delle scelte mirate che fino ad oggi hanno premiato. Avere questa continuità a fine campionato me lo auguro, magari sarebbe un risultato eccezionale, soltanto diciamo sarebbe un regalo ulteriore a tutti i tifosi che ogni domenica in casa vengono in tanti a seguire questa squadra, perché davvero è emozionante ed è la prima cosa che io racconto all'esterno, all'estero del Bari, è proprio questa grande febbre, questa grande partecipazione e affetto che c'è da parte dei tifosi che hanno sostenuto la squadra, cioè la squadra comunque quando scende in campo oggi è ancora più motivata sapendo di avere un pubblico che li segue con tutto questo cuore e questo affetto, quindi questo è fondamentale.